Ti devi rendere conto che populismo, come viene adoperato oggi, è il modo con il quale l'elite chiamano il popolo quando il popolo ad esse non obbedisce più, quando esse e l'elite hanno perduto la capacità di fare egemonia. E' un po' la volpe e l'uva. Allora non puoi al tempo stesso dire siete populisti, rivolgo il vostro voto. Siete barbari, votatemi. No, qui proprio non funziona.